Bentornati sul canale amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Per Aurora Ramazzotti non è stato più possibile nasconderlo. Ed allora ecco la verità che ha spiazzato tutti sui social. Quanto tempo è passato da quando abbiamo visto la storia d'amore tra Michelle Unziker ed Eros Ramazzotti. Tanti, tantissimi anni. I due hanno fatto coppia in maniera così intensa da far innamorare tantissime persone. E così hanno messo su famiglia, portando così il livello di attenzione al massimo. Ad oggi i due sono rimasti in buoni rapporti, vista anche la vicinanza tra i due in occasione dell'ultimo singolo di Eros rilasciato proprio in queste settimane. Un buon rapporto, nato ovviamente anche dalla necessità di tutelare la vita ed il futuro della piccola Aurora. La figlia della coppia, ormai non tanto più piccola, ha vissuto l'amore di mamma e papà anche dopo averli visti dirsi addio. Ed è anche questo che ha permesso ad Aurora di vivere la propria vita da figlia d'arte, portando sulle spalle un cognome pesante, ma senza alcun tipo di preoccupazione sugli equilibri della sua famiglia ormai allargata. Sì, perché mamma Michelle nel corso del tempo si è rifatta una vita in maniera considerevole. La storia d'amore con Tommaso Trussardi è stata un altro elemento importante nella vita della conduttrice svizzera, che dopo Eros ha ritrovato l'amore e rimesso su famiglia. Certo, i due ad oggi si sono lasciati e resta un altro vuoto nella vita della Unziker. Aurora, in tutto questo, ha anche proseguito la sua carriera lavorativa nel mondo dello spettacolo. Certo, a piccoli passi e con delle esperienze che le hanno permesso di capire concretamente come funziona questo mondo. Ad oggi molti si aspettano di vederla alla guida di un programma in tv, anche se per ora la giovane Ramazzotti si accontenta di utilizzare il suo profilo Instagram per parlare con le tantissime persone che la seguono. Aurora Ramazzotti, ecco spuntare qualcosa che non le piacerà. Come detto, sono passati tantissimi anni da quando Eros e Michelle facevano coppia. Oggi Aurora ha 25 anni, testimonianza che racconta di quanto il tempo si è passato. C'è, però, un aspetto molto interessante riguardo la giovane Ramazzotti, la sua vita ed in particolare il suo aspetto. La figlia di Eros e Michelle non ha mai lesinato il mostrare anche aspetti molto intimi della sua vita. E così ecco spuntare un qualcosa che per molti rappresenta qualcosa di drammatico. I segni del tempo che avanzano. I capelli bianchi. E, stata proprio lei a mostrare tutto attraverso il suo account Instagram, nelle stories. Comunque io adoro il capello bianco su una giovane, le parole di Michelle riportate proprio da Aurora in relazione a questa particolare situazione. C'è chi li ama, e c'è chi li odia, grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.